buon martedì a tutti oggi è il 12 settembre sono le 9.35 e grazie a questa candela è un fantastico short ci siamo già portati a casa un bel tecnica 2 una roba da non credere poco tempo in realtà il trade è iniziato con un primo chip qui seguito da un altro chip quando siamo andati decisamente su e adesso si sta rimbalzando proprio qua su questo livello perché ci serviva che cosa perché se la centratura è corretta ok ci serviva una chiusura minima per un secondo t meno 3 qua non c'era no a 20 no qua non qua c'è a 29 barre sì ma non ci serviva soltanto quella del secondo t meno 3 ci serviva una chiusura per tutto il primo t meno 2 e qui con la centratura che abbiamo a parte questo dubbio da dove possa essere partito il secondo t meno 3 ma risolto tranquillamente dal trade appena fatto noi noi sapevamo che comunque andando a finire qui sotto avevamo che cosa t meno 2 meno 3 gradi un t meno 5 ribassista 1 2 3 è questa che ci permetteva di chiudere teoricamente il nostro t meno 2 avere la condizione necessaria e sufficiente per e guardate abbiamo venduto al meglio quando siamo finiti qua sotto perché il tecnica 2 è incredibile ok anche se utilizzato contro trend perché in questo momento siamo palesemente contro trend a fare uno short può pagare decisamente bene volete vedere ok ecco qua il gruppo premium questa mattina alle dunque 8 39 segnalavo già che avevamo un future di 50 punti 55 punti contro ieri tra l'altro avevamo già iniziato appunto la la nostra operazione e chi aveva provato solo una scalpata era già andato in gain chi invece come me era rimasto dentro convinto della chiusura del t meno 2 lato indice a quel punto lì è rimasto dentro alle 9 04 ho segnalato che entravo con una seconda size ok e poi è successo quello che ribadisco 9 04 ci metto sempre qualche minuto in più a segnalare la cosa alle 9 04 eravamo qua in questa zona qua e abbiamo venduto dunque ho chiuso alle chiuso un attimo gain 9 31 ok quindi ah ma dimmi tu proprio all'inizio di questa candela qua che prima era rossa e ci ha portato sotto persino questa mediana delle delle bande di bollinger ma soprattutto a noi interessava come target questo target minimo i 28.475 infatti 475 era proprio quello per la chiusura del t meno 2 vedete non sono immagini queste copiate o altro come vedete qui compare l'orario in cui scrivo all'interno del gruppo premium e mi posso spostare da una parte all'altra ok quindi non è che ci sia un trucco chiunque entra può tranquillamente verificare che quello che segnalo corretto ok fortunatamente se avete incontrato questo canale sapete che andando qui appunto trovate una playlist in cui potete fare persino ancora per non so quanto tempo un corso gratuito come questo fatto da oltre 29 mila persone è completato però solo da 7100 persone che vi parlerà dei cicli ovvero di come si muovono realmente i mercati ed ecco perché la nostra statistica dopo essa si interrotta a 41 gain su 42 operazioni fatte e ripartita con un fantastico uno su uno e con tanti punti di guadagno in una sola operazione anche perché abbiamo messo due chip di quelli interessanti e adesso interessante sta rimbalzando quindi l'avidità ovviamente non paga e in questo momento ci provocherebbe qualche fastidio qui tra l'altro c'è stata una bella prova con questo svuotino di candela di capacità di resistere allo stress qui andava tutto molto bene qui ci è venuto conto e siamo tornati lievemente in perdita e poi siamo andati qua e quindi ottimo adesso che cosa facciamo uno verifichiamo che effettivamente si sia chiuso qua con questo minimo e con questa condizione corretta il secondo t meno 3 e poi valutiamo eventualmente se ci sono gli estremi per andare long perché attenzione se invece fossimo in questa seconda condizione questa qua 17 barre noi potremmo ancora dover andare a chiudere come minimo dalla ventiquattresima barra in poi con un minimo il secondo t meno 3 partito da qui e quindi sarebbe possibile persino dover ritornare qui sotto sotto questo minimo però non iniziamo a fare troppi a rendere troppo particolata la cosa ok facciamo altre considerazioni magari più interessanti 1 avete voglia di interagire con me ok per il gruppo premium sto studiando delle live da questo ottobre in avanti se riesco già ok in modo da potersi confrontare direttamente senza dei video che arrivano senza minima interazione a parte quella delle delle chat ok che però viene poco utilizzata per gli indici e molto utilizzata per bitcoin secondo più facile per interagire o per capire meglio questo metodo vediamoci questa sera alle 17 30 su house of trading ok house of trading ore 17 30 vi connettete e il canale di ben per paribas investimenti investimenti ben per paribas lascerò il link probabilmente appunto qui sotto in descrizione su youtube vi collegate avrete la possibilità di vedere anche altri trader alcuni che sanno il fatto loro ok la maggior parte in realtà che sa il fatto loro adesso non non giochiamo per difetto e potete e potrete oltretutto farmi domande scrivendo nella chat per cui l'appuntamento per chi vuole fare domande oppure conoscersi meglio e per questa sera alle 17 30 a mercato europeo chiuso per il resto andiamo avanti con il mib perché è importante fare anche considerazione di inverso per quanto riguarda l'inverso qui possiamo ovviamente aver chiuso a 32 barre caspita sì e come potevamo aver chiuso prima a 24 barre qui e essere già vincolati ecco no qui non ci sono cinque barre sotto massimo ne abbiamo una due tre e un pezzo neanche quattro qui ne abbiamo per adesso uno due tre quindi vediamo se qui effettivamente su questo massimo a 28.596.32 punti si è chiuso l'ottavo t meno tre inverso perché c'è ancora vedendo questa candela la possibilità che si vada a chiudere alla 35esima barre o fino alla 44esima fino alle 11.45 giusto e a quel punto sì che verrebbe bene un altro short probabilmente se andassimo sopra questi massimi perché andremo magari di nuovo in eccesso ok per questo motivo questo è il primo discorso da osservare su mib vedete che tra l'altro sto tolgo indicatori metto indicatori per rendere a volte più chiari anche i grafici a volte con l'icimoc diventa un po un caos ok per quanto riguarda quindi il mib ricordiamoci sempre che siamo qui e vogliamo vedere se chiuso l'inverso che è arrivato a quanto tempo l'inverso perché a noi interessa anche sapere quanto sul settimanale siamo già alla siamo già alla decima barra su 11 al massimo iniziano ad assettigliarsi le possibilità ancora di salire c'è stata la possibilità che sia partito nel frattempo un quarto t meno tre inverso non mi sembra ok e qui quindi a livello di mensile siamo già arrivati a 30 barre su una media di 32 quindi vogliono ancora provare a salire ok ma qui stiamo ci stiamo avvicinando pericolosamente a che cosa alla condizione necessaria e sufficiente per una chiusura di mensile inverso ce l'abbiamo già cosa serve per chiudere un mensile inverso il primo mensile inverso di questo t più tre inverso di questo trimestrale inverso basta un sottociclo di tre gradi inferiori come c'è nel corso trading days e quindi basta un t meno uno t meno uno sono tre giorni sotto massimo o caspita e allarme rosso per la chiusura di un mensile inverso perché la condizione necessaria e sufficiente ce l'abbiamo già se andiamo troppo in eccesso con la salita se andiamo in chiusura dell'ottavo t meno tre uno short può diventare interessante come operazione ok passiamo al dax per quanto riguarda il dax allora qui molto tutto molto più semplice assolutamente più semplice qui abbiamo chiuso con molta più debolezza molta più fatica molta più lateralità perché ricordiamoci che venerdì ci sono le tre streghe tre streghe significa che si switcha da contratti con vecchia scadenza a contratti con nuova scadenza e quindi i volumi diventano difficili da leggere si perde la visibilità sui volumi quindi ebbene non fare trading venerdì che sta arrivando il terzo venerdì di ogni terzo mese dell'anno io non farò trading andrò a rilassarmi probabilmente se ho tempo andrò al mare faccio un bel weekend anticipato ok oppure leggerò un bel libro finirò di fare delle cose che sto per annunciare per settembre non lo so ma non farò trading a meno che non ci siano delle cose particolari non ho voglia di prendere rischi non necessari ok ritornando però al trading qui possibilità di aver chiuso il secondo t-3 con esso serenamente anche il t-2 anche qui su dax sì assolutamente partenza di possibile terzo t-3 sì aggiungiamolo subito terzo spettacolo ok e a questo punto che cosa ci conviene fare 1 andare a guardare anche l'inverso come di consueto qui può essersi chiuso a 24 barre il primo anzi settimo t-3 inverso sì a patto che sia il settimo ok anche questo mettiamolo magari in giallo che così si nota di più la cosa che cosa sto dicendo secondo potrebbe essere ancora eventualmente in chiusura qui 37 barre massimo 44 assolutamente potrebbe essere ancora in chiusura in realtà da qui abbiamo un massimo a 15.829 erotti qui abbiamo 28 ok da qui abbiamo tutte le candele che vogliamo per far partire un ottavo t-3 inverso ovviamente sì ce l'abbiamo tutto abbiamo tutte le condizioni quindi in caso di salita qui sopra e magari di prosecuzione verso questo massimo io non so se avrei poi tanta voglia di andare ancora long perché per lo stesso motivo che vi citavo prima sui cicli superiori no questo è S&P 500 non c'entra niente andiamo qua DAX ok qui a parte la candela che non si vede oggi ok a quanto tempo siamo arrivati di mensile inverso e prima avevamo una condizione per la chiusura dei mensili inverso perché questo video è oro per chi inizia con i cicli fatelo vedere a chi è iniziato qui su questo massimo può essersi chiuso un t-2 inverso no perché sono 23 barre qui su questo massimo a 30 barre può essersi chiuso un mensile inverso un t-2 inverso sì per lo stesso motivo che vi ho detto prima vogliono ancora andare qui sopra fino alla media mobile a 50 periodi fantastico sarò sempre più pronto ad andare short anche soltanto per la partenza di un nuovo settimanale inverso e qui a quanto siamo con oggi candela che non si vede di barre siamo all'ottava durata media di un settimanale inverso per cui iniziamo a prepararci a una possibile discesa entro i tempi classici dell'analisi ciclica evoluta che vedete ovviamente qui sotto d'accordo perché abbiamo già le condizioni necessarie sufficiente per chiudere il nostro primo mensile inverso di questo trimestrale inverso ok direi che è tutto se appunto vi interessa poi avere poter parlare con me e potermi iscrivere domande e quant'altro su l'analisi evoluta su cosa ne penso su un certo indice piuttosto che commodity o altro ci vediamo dalle 17.30 in avanti su house of trading buona giornata a tutti la mia lo sarà sicuramente perché iniziare così una mattinata con un gain del genere ripartendo come statistica dopo 41 trade corretti su 42 è impagabile arrivederci buona giornata